ahahahah la porta si, da solo mi piace, mi piace la porta la porta ma la porta chi va ad aprire la porta? se sono da solo non può andare nessuno io solamente posso andare ad aprire la porta ecco vado io ad aprire la porta non ti permette che ti do un tuccio vado io ad aprire la porta si a chi ti do un tuccio la porta? a me arrivo arrivo chi è? ahahahah ahahah ahahah ma che è stato? che sei venuto a fare? sono proprio scattato la voce si chi è? ahahah mancava questa la pelle stiamo a posto ahahah allora non ci posso fare si chi è? ahahah mancavi tu proprio la pelle stiamo a posto eeeh 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 ti ho sputtato in faccia ti ho sputtato in faccia ahahah ahahah si? ahahah ahahah eeeh 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 cosa volevo dire? ci volevo dire? cibiteri 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 cibiteri. che sei venuto a fare? che cosa vuoi? dov'è? lule lule eeeh non andà avanti ho capito che cosa vuoi perché oggi sto nervoso vuoi lulu lulu lulul trama drama drama? se ne andate a fare la spesa capito a far la spesa eeeh e quando si apriamo? non lo so di più non sono pronto eeeeh vedi che in drama è andata a fare la spesa capite? puoi pure andare altro che pronto, ciao e drama è andata a fare la spesa forse è momeri che tu non ti studi forse è meglio se la raggiungo perché è quella giubileira si carica sempre di buste io quella la conosco brava brava Estò? Cosa sarà? Kikk dov'è? Kikk non c'è, è andata via ohne! chica non c'è? io dovevo chiedere una cosa tu non devi chiedere niente a nessuno perché chica qua non c'è e mo ti mando pure a te dove ho mandato tutti quanti e cioè mo ti faccio fare una brutta fina come c'è? mi hai detto c'è? io ti sto dicendo cominciamo bene la quinta serie ed è proprio qua che volevo 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 danze volevo danze no dico è qua che ti volevo praticamente io che fine devo fare sentiamo con la qui da se non la fai come ho fatto fare la fine alle altre capito? non ti piace questa cosa? ciao ci vediamo ciao 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 ciao